L'esordio non ha portato una vittoria, credo che per te sia stata l'emozione di questa prima partita. Partiamo da lì, poi parliamo un po' anche della partita. Sicuramente è stata un'emozione grande, anzi molto forte. Purtroppo il giuntato non è stato ottimale, siamo entrate in campo un po' rigidite e loro invece hanno aggredito la partita per tutti e quanti sempre. Secondo te cosa è mancato, a parte che l'analizzerete col vostro mister, una partita equilibrata che poi si è risolta per pochi punti, ma credo di poter dire che è stata una vittoria meritata per loro. Sì, abbiamo fatto un po' troppi errori e diciamo che siamo entrate in campo un po' in rigidite e questa cosa non siamo riusciti a risolvere durante l'arco della partita. La disavventura con Lloyd, adesso non sarebbe neanche giusto tornare indietro. Tu che ti sei trovato un po' all'ultimo momento a entrare, le cose non girano bene, però credo che dobbiate restare tranquilli, in fondo siamo solo all'inizio ed è nelle difficoltà che si vedono le squadre che riescono a... Abbiamo avuto delle situazioni che non ci aspettavamo, la città sta cercando di risolvere al meglio e noi comunque in palestra ce la mettiamo sempre tutta e cerchiamo di migliorare anche se abbiamo delle mancanze. Inchela, ve l'aspettavate un Trento così forte? Sicuramente loro partivano forse da una situazione già consolidata perché si conoscono a parte la palleggiatrice tutta già dall'anno scorso. Però effettivamente hanno giocato un match e hanno meritato questa vittoria. Eh sì, loro comunque giocano insieme già dall'anno scorso, però devo dire che già dall'ultima partita che hanno fatto sono state molto brave e insomma ci aspettavamo che non sarebbe stata facile, infatti hanno fatto una bella partita. Cosa secondo te siete mancate e cosa invece avete fatto meglio? Le prime due cose che ti vengono in mente Michela? Siamo mancate un po' in muro difesa e fatto meglio diciamo un po'... Eh, fatto meglio non lo so, però ci è mancato tanto il muro difesa. Non bisogna batterci, no? No. Il campionato era appena all'inizio. Esattamente. Sì, si era rimpianto di aver perso questa partita, ma... Già da lunedì torniamo in palestra carica per migliorare. Grazie, complimenti per il tuo debutto. Ciao, grazie. Salve.